E bentornati in questo nuovissimo episodio di Keeping Up With Iaia Rondi. Io sono la vostra host, Ilaire Rondinelli, e bentornati in questo podcast. Allora ragazzi, bando alle ciance, di cosa parleremo oggi? Voglio parlarvi di un video, video, in cui mi avete taggato, avrò avuto qualcosa come 50 tag. E siccome è un discorso, c'è molto da dire, non era solo una semplice domanda risposta su TikTok, ho detto, ne parlo nel podcast, così almeno cerco di fare un discorso un pochino più grande. In questo video, questa ragazza diceva, allora, le donne americane sono, rispetto alle italiane, sono un pochino più menefreghiste, nel senso si parla soltanto di carriera, businesswoman, mio marito sta lì, fa le cose sue, io faccio le cose mie, mentre l'uomo americano, rispetto a quello italiano, è più ti difendo io, ti proteggo io, patria, amore, se una cosa la voglio, combatto per averla, eccetera, eccetera. E appunto diceva, è per questo che le donne italiane si sposano gli americani, e perché gli americani si sposano gli italiani, perché noi siamo, la maggior parte delle donne italiane, cioè mia madre, mia nonna, la madre e mia madre, sai, mi prendo cura di mio marito, cucino, lavo, adesso un po' le cose, per fortuna, siamo un pochino evoluti, quindi comunque i doveri di casa vanno fatti sia uomo che donna, io e mio marito facciamo tutto dentro casa entrambi, cioè lui fa la lavatrice, lui cucina, lui lava, cucinare magari lo faccio io perché mio marito fa abbastanza pietà a cucinare, ma vabbè, se ci vuole provare ogni tanto glielo facciamo provare, ma è meglio evitare, fidatevi. E quindi c'era questo video in cui appunto diceva, ed è per questo sapete che gli uomini americani, poi magari alcune, perché vogliono rimanere negli Stati Uniti, perché vogliono la green card, se sposano l'uomo americano. Allora, vi dico un attimo come la vedo io questa cosa, anche da persona che comunque vive da tanto negli Stati Uniti, ha conosciuto tanti americani e comunque sa come sono un po' le situazioni di donne, uomini, stranieri che si sposano con americane. Allora, la donna americana, e io mi baso su tutte le donne americane che ho conosciuto sposate, quindi vi parlo delle mie, la mia host mom o le host moms di altre ragazze che hanno fatto la ragazza alla pari negli Stati Uniti, ragazze sposate con altri ragazzi americani un po' più giovani. Ragazzi, questa cosa è vera, la donna americana si focalizza di più sul business, sul lavoro. Io voglio lavorare, io voglio essere indipendente, io non me ne frega niente dell'uomo, sì mi c'è sposo. Voi dovete capire che nella cultura americana, loro prima di tutto crescono molto più velocemente di noi, la maggior parte dei giovani americani escono di casa a 18 anni, c'è magari ovviamente chi rimane molto più là, magari chi va via, per esempio nella famiglia di mio marito il fratello si è arruolato a 16 anni e mio marito si è arruolato a 18, ok? O forse un po' più tardi, 19, non mi ricordo, vabbè. No, non è vero, perché mio marito sta dentro da 8, no, non mi fate fare matematica, che io sto proprio una capra, fatemi parlare di storia, cultura italiana, ma non mi parlate di matematica. Allora, calcolate, mio marito ha quasi 32 anni, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 25, non è vero, si è arruolato a 24, infatti dico, ma che sto di troppo, troppo presto. E quindi il fratello invece ci è arruolato molto, molto giovane, il fatto sta che lui probabilmente tra poco andrà in pensione. Comunque, molti giovani vanno via di casa molto, molto giovani, ok? E non sono come noi, che magari, per esempio, non vi dico, dei quelli, i ragazzi italiani, i ragazzi italiani che rimangono a casa fino a 40 anni, no, non si sta parlando di questo, ovviamente. Si sta parlando che comunque noi rimaniamo un po' di più a casa dei nostri genitori, no? Perché magari non ci possiamo permettere gli affitti, vai all'università, non lavori. Se ti puoi permettere di stare con i tuoi genitori, ben venga, ok? E quindi, la cultura è molto diversa. Loro crescono molto più velocemente di noi e di conseguenza vanno molto più veloci di noi. Cioè, lo sposarsi ed avere figli molto giovani è una cosa che per noi è assurda, ma qui non lo è. Cioè, voi dovete pensare a quante ragazze io ho conosciuto, quando facevo la ragazza alla pari, vivendo qui negli Stati Uniti, che già a 21-22 anni sono sposate, hanno due bambini, un bambino, a 24 c'hanno tre ragazzini. Cioè, capite? È una cultura molto diversa e crescono molto più velocemente di noi. Quindi, ripeto, per noi è una cosa assurda vedere una ragazza di 22-23 anni già sposata con un bambino. Per loro non lo è. Infatti, se tu parli con l'americano, a 30 anni ti dice che lui è vecchio. Cioè, tu parli con mio marito, che ha quasi 32 anni, io ho quasi 31, ti dice ma siamo vecchi. Eh, bello, parla per te, io non so vecchia, cioè io proprio vecchia non me ce sento. Figurate, io me sento ancora come se c'avessi 18 anni, anzi, me sento ancora meglio di quando c'avevo 18 anni. Quindi, parla per te. Però, loro ti dicono, io so vecchio. Cioè, ma come sei vecchio? Perché loro crescono molto più velocemente di noi. Quindi, diciamo che il corso della vita di un uomo, una donna americana, ovviamente se vanno al college, quindi ci sono diverse categorie, no? Cioè, quello che si arruola nei militari, quello che si mette subito a lavorare, quello che va al college. Solitamente si cerca di andare al college negli Stati Uniti. La maggior parte degli americani vanno al college. E poi ci sono le altre due categorie di chi va al college. Chi si indebita fino al collo e c'ha il debito dei 100.000 dollari per tutta la vita, che poi si spera di chiudere trovando un lavoro, no? Questo è il circolo. Non ho i soldi, chiedo un prestito per andare al college, prendo il mio diploma per diventare dottore e poi cerco di richiudere quel debito diventando un dottore e cominciando a guadagnare tanti soldi, ok? Alcuni ce la fanno, altri no. Altri si ritrovano indebitati fino al collo per tutta la vita. Brutte situazioni. C'è un podcast che io mi ascolto sempre di un signore che chiamano e cercano, insomma, cercano di trovare un modo, no? Che hanno tipo 200-300.000 dollari di debiti e lui ascolta le chiamate e allora dimmi, dimmi allora qual è la tua situazione? Questa spiega, sai, c'ho un debito universitario di 250.000 dollari e guadagno tot, come faccio a chiudere sto debito. Cioè, ragazzi, cose assurde, fatto sai che ogni tanto lui fa delle facce del tipo scusa, ma tu come pensi di levare un debito di 300-250.000 dollari con uno stipendio di 7.000 dollari al mese? Vabbè, comunque. E poi ci sono invece quelli fortunati che stanno bene economicamente, quindi non si indebitano per andare al college, vanno al college, se lo possono permettere, non hanno bisogno di chiedere prestiti e è buon per loro. Poi, quindi andiamo oltre. Diciamo che l'università è importante, la vedono come un passo importante, come lo vediamo noi, però diciamo che per loro è più... Non ve lo so spiegare. Se vivete negli Stati Uniti e conoscete la cultura americana sapete di cosa parlo. Anche tutta la cosa della cerimonia, la vedono come, sai, il passo deve essere così la mia vita, capito? Soprattutto gli americani vedono il prendere la laurea, sposarsi, fare i figli come il raggiungimento più grande della mia vita, soprattutto il matrimonio e i bambini. Cioè, loro si sentono dei falliti se non sono sposati o non hanno bambini. Il fatto sta che le donne americane, quando si fidanzano, e poi anche qui c'è una grande differenza tra le nostre relazioni questi, se fidanzano, dopo manco sette mesi questo gli chiedete se sposasse. Quindi se sposano e poi se divorziano dopo due. Non è assolutamente come da noi. Cioè, quando la donna americana si fidanza con l'uomo americano, lei già si aspetta l'anello, cioè già cominciano a fare i TikTok, ma quando arriva l'anello, siamo fidanzati da otto mesi e ancora non mi ha fatto la proposta. Cioè, gli dice una cosa del genere a un uomo italiano, quello dice Bella, beh, vai, ciao. Beh, capite, ma proprio anche noi. Cioè, non si può vedere, è assurda come cosa pensare che ci si sposa o si fa la proposta di matrimonio dopo sei, sette mesi che si sta insieme. Figuratevi, noi ci stanno delle coppie che stanno insieme per, che ne so, cinque anni, sei anni, sette anni prima di bandare a convivere o di fare i passi del genere. Però, io preferisco molto di più la cultura italiana perché tu devi capire un attimino con chi stai. Cioè, io non vi dico da aspettare sei anni, sette anni, perché comunque io ho aspettato, non è che ho aspettato tanto un dia, ci siamo conosciuti, ci siamo sposati nel 2021. Insomma, sono stati, che è, due anni e mezzo prima di sposarci. Però, la mia era una situazione diversa. Però io con un ragazzo italiano non mi sarei mai sposata dopo due anni. Però, già cominci tre, quattro, magari ci convivi, eccetera, eccetera. Se vedi che è una persona giusta, magari cominci a pensare al matrimonio. Però, non farei mai, cioè, come fanno dopo cinque mesi a sposarsi? Cioè, ma come fai a conoscere una persona? Dicono che le persone non le smetti mai di conoscere. Ed è vero, è davvero, io sono d'accordo. Quindi, fidanzamento anche del nostro è diverso. Quindi, di conseguenza, la donna americana non ha quella cosa del mi prendo cura di mio marito. Sono la donna di casa. Pulisco, lavo, cucino, oddio che faccio stasera per cena. La maggior parte delle donne americane torna dal lavoro. Magari hanno i figli, perché la maggior parte americana hanno i figli. Io, infatti, mi sento completamente un pesce fuor d'acqua. Tutte, praticamente, le ragazze americane che ho conosciuto nella mia vita o erano sposate e avevano i figli. Cioè, è anche molto raro all'età, alla mia età, all'età di mio marito, trovare qualcuno che non è sposato e che non ha figli negli Stati Uniti. È molto raro, molto. Tornano a casa dal lavoro. Ah, non è che dici, oddio, come mia madre. Per esempio, prendiamo esempio mia madre, che è la tipica madre italiana. E che cucino stasera, non lo so. Poi manda a fare la spesa. Vediamo che trovo un po' di pesce, un po' di carne, un po' di verdure. No, no, loro fanno... Ah, no, sono stanca. Vabbè, ordiniamo take out. Prendiamo cibo d'asporto. Io non c'ho tempo. Cioè, non stanno lì a dire... Oppure magari il figlio, il bambino, devo cucinare qualcosa di sano per mio figlio. Loro se ne fregano proprio. Cioè, non gliene frega niente. Ah, vabbè, ti faccio un po' di crocchette, quelle di pollo, nel freezer. Due patatine, così te le metto nell'air fryer, hai fatto. Credetemi, ho visto scene. Io poi in prima persona ho fatto la babysitter. Non solo ho fatto la ragazza alla pari, ma ho fatto anche la babysitter a tre bambini diversi, qui negli Stati Uniti. Mentre aspettavo la green card, insomma, lavoretti. E voi non potete dire cosa non ho visto. Cosa non davano da mangiare ai bambini piccoli. Perché veramente voi fate vedere una cosa del genere alle nonne, alle mamme italiane, vi dicono... Io mi rifiuto. Cioè, una cosa del genere non la posso vedere. La cosa più macabra che ho visto, la madre che mi lasciava da fare al bambino, il mac and cheese da fare con tutto pronto da mettere nel microonde. A un bambino di manco un anno. Mi si è spezzato il cuore. Che se pensai a tua madre, ai vostri madri, che mia madre, devo dare da mangiare a mia figlia qualcosa di sano, il petto del pollo, il pollo, i verdure, la pastina... Ma non ne frega niente. Quindi, c'è una netta differenza tra la donna italiana e la donna americana. Come c'è la netta differenza tra l'uomo italiano e l'uomo americano? L'uomo americano, effettivamente, è un pochino più... Cioè, gli uomini italiani di un tempo... Adesso, ripeto, ci siamo evoluti per fortuna, ma gli uomini italiani di un tempo... Erano... La moglie fa tutto. Io torno dal lavoro, mi siedo sul divano e aspetta la cena. Non si vedeva, cioè... Gli che fai la lavatrice, la lava soviglie, lavi i piatti, cose... No, faceva tutto la moglie. Adesso, ripeto, ci siamo evoluti. Io spero che anche voi vi siate evoluti. Vi prego, non mi venite a dire che il vostro marito fa ancora queste cose. Perché, ragazzi, siamo nel 2024, ok? Io, scusate, ho dei problemi con questo vestito. Ecco, qui ci sono 31 gradi c'erano. Adesso si è un po' abbassata la temperatura, perché sono quasi le 7 di sera. Ma voi non potete capire che caldo che fa. Quindi mi sono levata la magliettina, ma ho fatto un grave errore. E praticamente questo vestitino sono nuda. Ma voi non ci fate caso, tanto. O se state ascoltando, o state vedendo... Non ci fate perdere. Voi fate pinta di niente. Quindi, l'uomo americano è un pochino più... Ok? Siccome sono abituati ad avere donne così, che non stanno lì a dire Amore mio, ti cucino la cena, che vuoi stasera per cena, il pranzo, ti ho afficinato il pranzo per domani... No, no. Siccome loro sono anche molto indipendenti, perché comunque sono cresciuti così, ripeto, vanno via di casa molto giovani, le fanno le cose. Cioè, io sono rimasta alibita quando ho conosciuto mio marito, quando ancora eravamo amici, non stavamo insieme. Ragazzi, mio marito faceva tutto. Lavatrice, asciugatrice, stirava. Se stirava le divise. Cucinare... Lui sempre non ha un po' di pietà a cucinare. Vabbè, ma gli americani... La cultura del cibo degli americani, ragazzi, è molto diversa. Cioè, loro hanno moltissimo... Se noi abbiamo la cultura del stasera cucino, pranzo, decido cosa cucinare, loro hanno molto la cultura del... Non so cucinare, prendo take out. Cioè, loro prendono molto cibo da sporto. È proprio nella loro cultura. Ci sono tantissime famiglie americane che non cucinano mai, prendono solo take out. Quindi, mio marito non è... Non è uno chef, quindi... Leviamo il fatto che lui non cucina, vabbè. Magari comprava le cose congelate, sai, quelle schifezze. Però, vabbè, apprezziamo l'impegno. Però, lavare i pietà... Cioè, mio marito fa tutto dentro casa. Mio marito lava... Mi fa spiegapolvere, mi fa i pietà. Io, ripeto... Preferisco cucinare, perché veramente, se no, mio marito mi fa... A parte divento una palla. Cioè, perché se mangio come mangia mio marito, quelle schifezze che compra lui surgelate, cioè, raga, io divento una palla. Non ho il metabolismo che ha lui. E poi, seconda cosa, non è salutare. Quindi, io sempre cerco di mangiare frutta, verdura, legumi, sempre proteine, uova. Invece lui è molto... Vabbè, mi mangia la pizza surgelata. L'ho mangiata io. Ma che me fregare, mangio pure oggi. Tanto io, quello è uno stecchino, quello non ingrassa. Sta benissimo. Vabbè, beato lui. E... Quindi, diciamo che... L'uomo americano e la donna italiana si incontrano e dici, ammazza! Questo è il paradiso. Il problema è che poi dovete vivere negli Stati Uniti. Quindi, pensateci, pensateci bene. Pensateci bene, prima di fare... Ah, cosa è andato a vivere? L'uomo americano incontra la donna italiana. Figuratevi. Quelli non gli pare vero. Dicono, ammazza! Mi so trovata la donna italiana. Io, quello, mio marito. Vedi, alcune volte mio marito mi dice, oh, non me... Io, magari, amore, ti ho fatto il caffè, ti ho fatto la cena, ti ho fatto il pranzo. Ma lui, ma non ti devi preoccupare, ma lo faccio io. E a me viene naturale. Perché ce l'ho... Noi ce l'abbiamo sta cosa del prendersi cura dei nostri uomini. Vuoi o non vuoi, per quanto io sia una donna indipendente, e so che mio marito è un uomo indipendente, a me piace farlo, perché ho sempre visto mia mamma farlo con mio papà. E non lo so, ce l'abbiamo, per favore, nel sangue. E loro questa cosa la sanno. E la amano. E in pieno mio marito ogni tanto mi dice, senti, oh, no, non me... Ogni volta il caffè mi dice, sì, grazie, ovviamente gli piace. Però, alcune volte mi dice, non ti devi preoccupare. Cioè, mi dice, perché ti preoccupi così tanto? Perché io, è più forte di me, non ce la faccio, io so fatta così. Mi preoccupo tanto, è che devo cucinare, è che devo fare. Infatti, molto spesso lui mi dice, ma non ti preoccupare, ma ordiniamo qualcosa stasera. E io dico, no, dobbiamo risparmiare i soldi. C'è anche una netta differenza tra come risparmiamo i soldi noi, loro, e come risparmiamo noi. Quindi, insomma, ci sono anche un po' delle discordanze. Ma vabbè. E, quindi, raga, di che stiamo parlando? La donna italiana che incontra l'uomo americano, l'uomo americano, super patriottico. Magari vi trovate, il militare come mio marito, super patriottico. Mio marito è molto... gli americani, io, allora, questa è una cosa che a me sinceramente piace, però può piacere come non può piacere, eh, ovviamente. Mio marito è molto americano, cioè, mio marito è rozzo, ma nel, essere rozzo da americano. A me piace l'uomo, capito? Cioè, mio marito, ogni due per tre dice una parolaccia, non che sia maleducato, e attenzione, è proprio il suo essere americano, e a me sta cosa mi fa impazzire. Cioè, anche proprio, come, non lo so, non so come dirvelo, la loro americanità, cioè, l'essere americano, l'uomo americano, che te si presenta col track, col cappellino, col tatuaggio, così, con sto track enorme, e tu dici, madonna, quanto sei bello, ti viene a prendere col track, ragazzi, per me è una cosa, cioè, a me piace, a me piace, mi dà proprio senso di, di maschio, non che gli italiani non lo siano, però, effettivamente è vero, nel video questa ragazza diceva, ormai gli uomini italiani, sono un po' più tipo, infemminati, non mi devi correre dietro te, ma lo sapete, io quanto, sono stata dietro, soprattutto a uno, ma l'ho corteggiato, io l'ho corteggiato, questo poi alla fine, manco mi ha voluto, questo stronzo, questo è proprio uno, che mi è rimasto proprio qua, vi dico soltanto, vi dico soltanto questo, una volta a San Valentino, io ero persa, persa innamorata di questo, io seguivo ovunque, nelle discoteche, e gli scrivevo, usciamo stasera, lui no, e io, ma dai usciamo, no ragazzi, una sottona, proprio una sottona, una volta a San Valentino, ci ero andata a prendere una rosa, con una lettera, e l'ho lanciata nel giardino di casa, perché poi facevo pure la stalker, nel giardino, ragazzi, che figura di me, che sottona, ma se può essere così sottona, questo poi a fine, manco mi si è filato, mo si è messo con un'altra, vabbè, non che una cosa mi frega, insomma, ragazze, ma quanti uomini sono così in Italia, che gli dovete andare dietro voi, no, l'americano effettivamente, è più, se ti voglio, faccio di tutto per averti, ti corteggio, e ripeto, non che gli uomini italiani, ancora non ci, ci sono rimasti, ne abbiamo ancora uomini italiani così, però solitamente l'uomo americano è più maschio, ok, ripeto, non sto screditando l'uomo italiano, però, è così, non so spiegarvelo, io quando vedo il mio marito, lo guardo, io lo guardo, a quelle volte lo fisso, perché c'ha proprio quella americanità, che io dico, madonna quanto sei bello, vi è qua, cioè bello proprio, mi piace, mi piace un po' rozzo, come parla, che ne so, per dirvi, il fratello e il mio marito, se ciancica il tabacco, cioè raga, la cosa più americana che ci fosse, e poi sputa, cioè, capite, mi fa ridere sta cosa, però è vero, è vero, mi dà proprio senso di, bello maschione, capite, quindi, capite, cioè questo, la donna italiana incontra l'uomo americano, e c'è la scintilla, però ripeto, state attente, perché poi ci dovete vivere negli Stati Uniti, e io ci penserei, io ci penserei ragazzi, a meno che veramente, non vivete una situazione tragica in Italia, che tu dici, vabbè, voglio andare a vivere negli Stati Uniti, perché in Italia, non c'ho proprio basta, per l'Italia, non la vedo più, non ce la faccio più, non c'ho amici, non c'ho una famiglia, non c'ho niente, allora dici, vabbè, vabbè, però ragazzi, pensateci, perché poi veramente dovete vivere negli Stati Uniti, dovete rinunciare alla famiglia, alle amiche, alla bellezza di vivere in Italia, ragazzi, voi non sapete cosa, cosa vi state perdendo, cioè, perché poi quando ci vivi non lo capisci, poi quando te ne vai, lo capisci, fidatevi di Ilaria, quindi pensateci, pensateci, però, però questo è vero, però questo è vero, il problema è che poi bisogna vedere se i matrimoni durano, perché la maggior parte delle volte, molti matrimoni tra l'uomo americano e la donna italiana, non durano, perché le differenze culturali sono troppo grandi, adesso io vi voglio vedere, perché adesso mio marito è andato tutto bene, ma adesso io vi voglio vedere, adesso che avremo un bambino, a breve, breve insomma, insomma, a breve no, ancora ce vuole, però, adesso che avremo un bambino, io vi voglio vedere, perché le nostre differenze culturali sono grandi, io sono abituata in un modo, sono stata cresciuta in un modo, mio marito è stato cresciuto in un altro modo, e non c'è assolutamente nulla di male, ragazzi, perché non è che si tratta, trovi quell'americano un pochino, ragazzi, è la cultura americana, che è molto diversa da quella italiana, per dirvi, mio marito è cresciuto, con una cavolata, un esempio molto stupido per farvi capire, io sono cresciuta, che quando stavo male, mamma mi faceva la pastina col formaggino, bello caldo nel brodino, a mio marito, la madre gli faceva, a cosa confezionata, di pollo, e il coso che vendono qui, se andate al supermercato, vendono delle lattine rosse, con tipo le principesse sopra, i soldati, i dinosauri, roba per bambini, e sono quelle cose preparate, tipo, qualcosa come 2000 milligrammi di sodio, tipo, passata di pollo, tutto già preparato, e quelle sono una cosa che danno ai bambini, cioè, te so, ma te lo faccio io, il brodo di pollo, ma il tuo figlio, gli dai il coso con 2000 milligrammi di sodio, e dai, cioè, una cosa del genere, a mio figlio, se mio marito gli prova da una cosa del genere, gli dico, senti, no, io faccio io il brodo di pollo, capite qual è la differenza? Quindi, adesso vi voglio, io adesso vi voglio, quando avremo un figlio, ed è lì, ed è lì, che si vede, perché, ed è lì, che sentite tantissimo, una differenza culturale, ma io sono sicura, il mio marito ce la faremo, perché, insomma, ce l'abbiamo fatta fino a mo', figuratevi, che io, come sono fatta io, come è fatto lui, tutto sta nel trovare il centro, no, tra i due, quindi cercare un balance, perché se no, raga, non durate, ve lasciate, e, ripeto, perché le differenze culturali, sono veramente tante, tante, per questo io vi dico sempre, pensateci, per carità, bellissimo, sposata, America, però pensateci, prima di sposarvi con l'americano, perché voi dovete vivere negli Stati Uniti, capite, e dovete mandare vostro figlio a scuola, dove ci stanno le sparatorie, ecco, ecco, no, non cominciamo con questo discorso, perché se no, raga, mi prende un magone, non ci posso pensare, soprattutto io, adesso che sono incinta, e sto aspettando un bambino, non ci posso pensare, quindi, magari evitiamo il discorso, però pensateci, pensateci, prima di andare a vivere negli Stati Uniti, e nel senso sposarvi americano, comunque, diciamo che questo è il concetto, donna italiana, con un uomo americano, può andare, perché si ritrovano, ma allo stesso tempo, bisogna vedere il loro background, come sono cresciuti, dove sono cresciuti, cioè ragazzi, veramente, se voi prendete, voi siete, esempio, nate e cresciute, che ne so, a Milano, siete la milanese, bella figa, ciao, perfetto, andate in America, e incontrate, il contadino del Maine, che è nato e cresciuto, in mezzo ai pecore, ai cavalli, voi siete nati e cresciuti, a Milano, e siete andati al gatto pardo, se mi chiedete, come faccio a sapere queste cose, non lo so, non lo so, vedo su TikTok, e voi avete il gatto pardo, non vi sto parlando di Roma, perché Roma sarebbe troppo scontato, perché so di Roma, ma vabbè, e, cioè raga, per quanto voi potete essere innamorate, del contadino del Maine, che ha un fregno pazzesco, biondo occhio azzurri, tutto pompato, tutto tatuato, tutto americano, che tu dici ammazza, io questo me lo sposo, ma secondo voi, la milanese tutta figa, che va al gatto pardo, ma quanto ci dura, per quanto può essere bello, ripeto, il ragazzo, ma che ci avete in comune, ma che vi raccontate, capite? Cioè, è bello, per carità, ma dovete pure pensare, chi ci avete davanti, chi è sto ragazzo, cioè prima devi sposare, perché capisco, che poi quando ti trovi in queste situazioni, ti sposi subito, perché se ci vuoi stare insieme a una persona, purtroppo è negli Stati Uniti, hai bisogno della green card, ti devi sposare, altrimenti devi fare avanti e indietro, con l'estabe tutta la vita, fino a quando non ti sposi, ed è veramente, è una cosa stressante, psicologicamente, è brutto, perché poi se vuoi stare con la persona che ami, non lo puoi fare, quindi alla fine gira che ti rigira, ti ritrovi che ti sposi, ma fidatevi di me, pensateci bene prima di sposarvi l'americano, anche perché la maggior parte, purtroppo, siccome è sempre lo stesso discorso, la nostra cultura è molto diversa dalla loro, e loro vivono una vita, la maggior parte delle volte è molto più difficile dalla nostra, perché ripeto, gli Stati Uniti sono un mondo completamente diverso dall'Italia, come vengono cresciuti, come sono i genitori stessi, la maggior parte di questi ragazzi, ragazzi in questo caso, perché insomma, io mi piacciono i ragazzi, ragazze, se vi piacciono i ragazzi, hanno tanti problemi, cioè poi qui, ragazzi, qua ogni due, un ragazzino su due, e c'ha ADHD, e c'ha il disturbo da apprendimento, e c'ha quello, e c'ha quella, cioè tutte le volte, però hanno qualche problema a questi ragazzini, poveracci, qua negli Stati Uniti, è proprio una cosa stracomune, infatti una cosa mi spaventa abbastanza, ma vabbè, io cercherò di lottare su questo, fino allo sfinimento con mio figlio, cercherò insomma di, io lo crescerò all'Italian style, non se ne parla proprio che lo cresco all'American style, ci sarà ovviamente, la presenza di mio marito, però cercherò di, farlo crescere con i valori che abbiamo in Italia, perché credetemi che sono, 50 mila volte meglio di quelli degli Stati Uniti, quindi insomma bisogna anche vedere, ripeto, chi avete davanti, qual è il suo passato, cosa hanno passato, perché poi, invece sposate, e poi dite, ma chi me l'ha fatto fa, di fatto sai, tantissime donne italiane, o perché vogliono tornare in Italia, e vogliono scappare, perché non si trovano bene negli Stati Uniti, o perché dicono, mio marito è, cioè, io questo non ci voglio stare con questa persona, cioè, non abbiamo niente in comune, comunque, comunque, questo è, è il discorso che volevo farvi oggi, e poi magari vi pubblicherò, anche sugli altri social, questo è, magari pezzetti di questo podcast, perché giustamente state aspettando tutti, una risposta, e ho detto, aspettavo il podcast per darvela, spero di avervi risposto, nella maniera più esaustiva possibile, e, so che magari non ve ne frega niente, perché giustamente ci sono alcune persone, che ammazza e scatole, questa mo' parla solo di gravidanza, no, non parlo solo di gravidanza, e continuo a fare le mie cosine, ovviamente parlo anche di gravidanza, perché sono cinta, cioè, raga, io so' felice, è la mia prima gravidanza, quindi lasciatemi vive, bella, felice, vi parlo della gravidanza, se non vi piace, non le ascoltate, non me guardate, sempre lo stesso discorso, e, comunque, aspettiamo un maschietto, e, questa cosa, sicuramente se vi seguite la sapete, aspettiamo un maschietto, abbiamo scelto il nome, non ve lo dico, perché sarà una sorpresa, perché, e poi non siamo molto sicuri, è all'80% è quello, stiamo ancora pensando se dargli, come secondo nome, che qui si dà il secondo nome, un altro nome, o dargli come secondo nome, il mio cognome, quindi il mio cognome italiano, quindi sarà nome, cognome, perché poi, qui è una cosa molto comune, gli americani hanno tutti un secondo nome, mio marino si chiama, Dylan Keith, suo fratello si chiama Kyle, lo so, io non lo so il middle name del fratello, vabbè, quindi si vedrà, però vi farò sapere, all'85% ci piace molto, quindi forse sarà lui, chi lo sa, e niente, quindi sarà un baby boy, che se non mi esce biondo, con gli occhi azzurri, faccio causa a mio marito, perché insomma, dopo tutto sto casino, quest'anno gli Stati Uniti, sposare l'americano, biondo, occhi azzurri, se non mi esce fregno, come mio marito, io ve lo giuro, che faccio causa a mio marito, io dico, senti bello, tu figlio, deve uscire come te, cioè a me non mi frega niente, deve uscire capellone, deve uscire biondo, deve uscire con gli occhi azzurri, il tuo naso, la tua bocca, tutto, tutto, poi per il resto, può avere qualcosa mio, però deve essere come te, perché se no io non ho, non ho fatto tutto, su sto casino, per venire in Stati Uniti, sposare l'americana, capito, se, eh, comunque, comunque, ragazzi, io vi ringrazio, e, io a breve andrò in Italia, quindi non so, se mi prenderò una pausa dal podcast, vi terrò aggiornati ovviamente, voi continuate sempre a seguirmi, non vi dico quando, perché la gente porta sfiga, io ho sempre il cornetto, ti è, e, non ve lo dico, quando vado in Italia, scoprirete quando sarò già in Italia, e, continuate a seguirmi sui social, Instagram e TikTok, io mi chiamo sempre Iaia Rondi, e grazie per aver ascoltato questo nuovo episodio, di Keeping Up with Iaia Rondi, muah, ciao ciao,